l'esperienza sul set è stata per me sorprendente perché sapevo di che sarei venuta a lavorare appunto con una scuola di cinema a livello professionale ma credevo di trovarmi con degli studenti sono con degli studenti ma si sono palesati a me come dei professionisti a 360 gradi i ragazzi mi sono tutti veramente una bella squadra quindi sono molto molto contento sono di una professionalità veramente impressionante e nello stesso tempo estremamente umani accoglienti apri questa porta leo grazie 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 a tutti